dai dai su su che arrivo è su che arrivo come si chiama cristian guarda che io di solito sono io col casco così con la terra vicino a fidati di solito sono io che arrivo giù spiccicato per terra nell'erba questa quando gli dai fiducia che diciamo ti frego vado 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 e lei ti dice ah si tocca te ticanella e ci sta deve starci però è troppo manetta dove qua manubrio ma è solo la strizza come si dice solo lo stremizzi mi sembri spante camminare così è la strizza è la strizza ci sta e beh dopo che ascoltami è normale ma deve anche imparare quello ci sta bene cacchio quando gli dai fiducia lei ti frega ma forza no ma alza sotto qui stai con la moto per Maurizio bambino è normale grande cristian sta già sta già ridendo però quindi e tanto c'è in questi stanca quasi però me lo devi passare grazie